Ecco, è il modo sbagliato di impostare il ragionamento, cioè io credo che sia una conseguenza. Io non vedo le condizioni programmatiche per un programma che possa consentire di stare in una stessa coalizione tra noi che crediamo in una certa Europa e Salvini che di questa Europa non vuol sentir parlare. Tra chi crede che il recovery sia uno strumento fondamentale e chi ancora la settimana scorsa ha detto che per lui il recovery va preso soltanto i grants, cioè quelli a fondo perduto e non la maggioranza i fondi a prestito. Credo che è evidente che da questo punto di vista saranno una conseguenza delle scelte programmatiche che verranno fatte. Io un programma che contenga la flex tax al 15%, che mi sembra una delle priorità della Lega, non lo sottoscriverò mai. Questa è una scelta che dovrà fare il Presidente incaricato. Credo che non esistano governi tecnici neutrali, tutti i governi sono politici, le scelte da fare sono politiche. Credo che vadano messe le persone migliori nei posti.